Chi si affida al Signore sarà sempre sicuro, perché le sue fondamenta sono sulla roccia. E' quello che dice Gesù nel Vangelo, no? Parla di un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia, cioè sulla fiducia nel Signore. Sulle cose serie. E questa fiducia anche è un materiale nobile, perché il fondamento di questa costruzione nella nostra vita è sicuro e forte.